mettiti qua così lascia stai zitto non è partita stai zitto e più c'è un attimo ma sta picciando ragazzi ascoltatemi bene io faccio la musica voglio fare la musica tutto il resto lasciatelo lontano da me lasciatelo distante da me che non faccio quello non voglio fare la guerra e tutto quello che è successo stanotte quello che state vedendo anche voi dalle pagine perché le pagine poi si mentalizzano queste cose però vabbè lasciamolo stare mi sono svegliato anch'io come voi anch'io mi sono svegliato come voi ho visto queste pagine ho visto questi articoli non ne sapevo un cazzo neanche io siamo partiti tutti siamo tutti artisti siamo tutti bravi ragazzi tutti di buon cuore siamo partiti tutti da uno stesso obiettivo tutti quando siamo partiti volevamo fare i soldi volevamo fare la musica portare i soldi a casa nessuno di noi vuole una madre che piange perché queste cose diventano grandi e non finiscono più è un botta risposta un botta risposta un botta risposta un botta risposta fino a quando uno muore e la madre piange poi non è bello non è bello ragazzi io voglio che queste cose si chiudano per me era già chiusa per me era già chiusa quando è successo quel fatto per me va bene ok avete fatto quello va bene io faccio la musica voglio fare i soldi non sono un ragazzo che vuole fare la strada sono arrivato fino a qua per far cosa per rimettermi in strada rifare le tarantelle no no vogliamo fare i soldi noi avete capito io spero che queste cose qua finiscano spero che spero veramente spero veramente di beccarmi con i ragazzi i diretti presenti i diretti avete capito quello che voglio dire quelli che c'entrano veramente parlarci qua occhi faccia faccia metterci qua darci una mano stringere le cose chiudere le cose perché sono cose siamo arabi siamo noi siamo marocchini siamo avete capito quello che voglio dire tua madre potrebbe essere mia zia parlo con te parlo con qualunque di voi che potete qualunque di voi parlo con tutti voi tua madre può essere mia zia è brutto che tua madre piange perché non ci sei più mia madre piange perché non ci sono più non sono cose belle e se arrivano quelle cose non sono film non sono cose da sogni perché sono stato sequestrato io non sono cose da film sono cose che succedono tutti pensiamo che non succedono fino a quando succedono sono stato sequestrato non manca tanto a uccidere una persona non manca tanto a prendere e tagliare la gamba a uno tagliare il dito a uno non ne manca tanto avete capito quello che voglio dire sono cose che succedono quindi nulla io spero che con questo tutti voi capiate chi deve capire capisca chi deve venire a incontrarmi vediamoci per piacere vediamoci parliamone per piacere perché sono cose che devono finire non mi piacciono queste cose io almeno non appartengo a questo non voglio fare questo nella mia vita se voi volete farlo vediamoci chiudiamola da parte mia e fatelo con qualcun altro da parte mia basta non ne faccio parte un bacio ragazzi e tra l'altro è uscita la mia canzone parla di pace è appena uscita stanotte parla di pace andatevelo ad ascoltare parla di cose giuste non sono un ragazzo che vuole fare la criminalità sono tu c'è il cantante non tu c'è il criminale un bacio mua mua grazie a tutti grazie a tutti